Erbacce e sporcizia al Redentore. La segnalazione di un gruppo di cittadini alla redazione di TCS. Domenica ci siamo recati nel piazzale di San Giuliano per trascorrere qualche ora di relax con i nostri figli e abbiamo visto qualcosa di assurdo. Erbacce ovunque, dopo che in passato la stessa area era stata ripulita più volte. Evidenziano gli autori della segnalazione aggiungendo lo scenario si commenta da sé. Nelle vicinanze del santuario dove tutto sembra in preda all'incuria al degrado e nello spazio dove un tempo c'erano panchine e una vasca dove c'è da mettersi le mani nei capelli. I cittadini sottolineano se questo è il biglietto di presentazione della nostra città allora siamo messi veramente male. Pensate a quegli emigrati che tornano qui per votare. Pensate a quanti vengono da fuori e desiderano frequentare questa zona. La segnalazione si conclude così. Abbiamo pure preso atto che qualcuno ha realizzato una sorta di campetto polivalente nello stesso piazzale disegnando con il gesso lineare. Chi l'avrebbe mai detto? Nella nostra città succede anche questo.